Allora, direi che possiamo iniziare. Purtroppo la rettrice è ancora impegnata in una riunione perché avevamo una riunione dei delegati alla didattica, perché sono usciti dei decreti ministeriali stamani e quindi ovviamente avevamo una serie di aggiornamenti da verificare a livello nazionale con gli altri Atenei e quindi ha detto che possiamo iniziare e poi eventualmente verrà successivamente per un saluto. Io sono Ercilia Menesini e sono la prorettrice alla didattica e all'orientamento e servizio agli studenti e vi do il benvenuto. Sono molto lieta di, diciamo, aprire questo incontro con possibili studenti o anche laureati, insomma, dottori interessati alle classi di concorso per l'abilitazione all'insegnamento che noi proponiamo. Era già un po' che con il professore Ademollo, che è il delegato appunto alla formazione degli insegnanti del nostro Ateneo, dicevamo di fare questa iniziativa. Stavamo aspettando l'approvazione da parte del Ministero, delle classi di concorso che noi abbiamo presentato. In attesa di questa approvazione definitiva abbiamo ritenuto comunque opportuno cominciare a dare un po' di informazioni. Sia i nostri studenti iscritti, perché appunto hanno la possibilità di accedere a questi corsi, anche gli studenti iscritti alle lauree magistrali, sia ovviamente a persone già laureate o aspiranti docenti che appunto possono essere interessati ai percorsi abilitanti che noi proponiamo. Come sapete, i percorsi abilitanti sono stati ridefiniti essensi appunto della legge 79 del 2022, che in parte ha cambiato l'assetto, la struttura della formazione dei docenti e ha definito appunto questo nuovo sistema che andremo ad implementare a breve. Inoltre, nell'agosto del 2023 c'è stato un DPCM che in qualche modo ha definito in modo più chiaro sia le classi di concorso, sia la struttura e le modalità con cui possiamo accreditare i corsi di studio, i corsi appunto di specializzazione per l'insegnamento, abilitanti per l'insegnamento. Questi percorsi, come sapete, prevedono 60 CFU nella loro completezza e poi ci sono una varietà anche di proposte che possono essere funzionali con riconoscimenti dei 24 CFU o di 30 CFU a seconda appunto delle caratteristiche di ciascun candidato. Su questo poi il professore Ademollo sarà più preciso. Credo che sia per certi aspetti anche un momento importante di transizione, di cambiamento, non solo perché questo tipo di riforma è abbinata al PNRR, alla missione 4.1, quindi in qualche modo al rafforzamento di tutti gli interventi di tipo educativo che il nostro Paese sta mettendo in atto, ma anche perché di fatto si sancisce l'importanza di una formazione post laurea, specificamente dedicata proprio all'abilitazione e alle competenze dell'insegnante. Come sapete poi tutta questa macchina formativa è anche legata in parte ai concorsi, di cui appunto uno è già uscito, credo, in atto. Attualmente sono previsti altri concorsi, credo, nella primavera avanzata e quindi è una macchina che appunto è particolarmente interessante e importante proprio per reimmettere nuova linfa all'interno della scuola e in qualche modo riqualificare la funzione e la professione docente. Quindi siamo molto contenti come Ateneo Fiorentino di partecipare a questa progettualità. È stata una progettualità per noi anche molto onerosa perché ha avuto dei tempi particolarmente serrati, una serie di indicazioni ministeriali sono praticamente uscite ad ottobre e noi dovevamo sottoporre le nostre proposte i primi di novembre. Siamo ancora in attesa dell'approvazione, siamo al 20 di dicembre. Quindi i tempi sono stati per noi come Ateneo particolarmente pressanti e difficili. Abbiamo cercato di dare il massimo e favorire in qualche modo un'offerta che in questo momento era di particolare necessità per il territorio e per la regione toscana. È nostro interesse e anche un nostro obiettivo quello di promuovere ulteriori corsi e anche rivedere in parte l'offerta formativa ampliandola il prossimo anno. Ora poi il professore Ademollo che ha curato tutta questa parte vi illustrerà i corsi che abbiamo da quest'anno, i numeri anche che abbiamo previsto da questo anno e eventualmente l'organizzazione e la struttura dei percorsi formativi. Vi ringrazio per questa partecipazione nonostante l'invito anche ravvicinato di pochi giorni fa. Vi ringrazio davvero per questa partecipazione e saluto ovviamente chi ci sta seguendo da casa. Siamo a disposizione con una pagina del sito web che è dedicata specificamente alla formazione degli insegnanti in cui via via aggiorniamo le informazioni, le indicazioni che possiamo darvi, almeno quelle certe. Saremo a disposizione con un ufficio dedicato e poi soprattutto siamo a disposizione con un costituendo centro multidisciplinare per la formazione degli insegnanti di cui abbiamo qui appunto anche alcuni colleghi che in qualche modo coordinerà tutto questo lavoro della formazione degli insegnanti e in particolare, essendo un centro multidisciplinare, molti dei docenti che ne fanno parte poi saranno anche responsabili delle classi di concorso e di abilitazione specifiche della disciplina. Quindi di nuovo vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e a questo punto passerei la parola al mio collega che è il super esperto nell'ambito della formazione degli insegnanti. Grazie. Grazie Silvia. Forse uso il tuo microfono. Mi sentite? Sì? Allora, buonasera. Grazie Silvia. Questo edificio di nuova costruzione per dare un'idea un po' anche dello spirito che la, diciamo, che la anima e d'altro canto anche di dare qualche elemento in più per quanto riguarda questioni che sicuramente corrispondono a domande che molti di voi si pongono, chiedono per accedere, che distinzione c'è esattamente tra le varie tipologie di percorso previste in termini non proprio perspicui dal decreto. Quindi un po' di chiarimenti sia sulla struttura generale sia su alcune fattispecie concrete e anche dove si può cercheremo di aggiungere cautamente qualche elemento rispetto a rispetto a ciò che è pubblico finora e rispetto a ciò che anche un lettore attento e informato dei mezzi di informazione può aver ricavato. Credo sia corretto fare una premessa da parte nostra, cioè una premessa di cautela. come emerge anche dalle parole che ha usato la professoressa Menesini, ci sono degli aspetti ancora di indeterminazione nella situazione in cui noi ci stiamo muovendo. Una prima ragione che la professoressa ha menzionato è il fatto che noi siamo in attesa di ricevere l'accreditamento da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione e del Ministero. Siamo speranzosi di ricevere questo accreditamento però formalmente a oggi non lo abbiamo ricevuto come credo nessun altro. C'è un secondo aspetto che è bene precisare subito anche se poi avrò occasione di richiamarlo ancora nelle osservazioni più specifiche che farò. Un altro aspetto di indeterminazione ed è questo che il governo ha chiarito che ci saranno nuovi decreti. C'è una parte di normativa ancora mancante. Non è che se adesso oggi pomeriggio ci arrivasse l'accreditamento noi potremmo partire. Per alcune ragioni sulle quali vi soffermerò fra poco noi non saremmo in condizioni di partire domani nemmeno se avessimo l'accreditamento perché alcuni aspetti essenziali che il governo si è riservato di decidere rimangono ancora non decisi. E questo a costo di essere, come dire, di rischiare una certa pesantezza però lo devo dire perché questo significa che da un lato ad alcune domande noi a oggi non conosciamo la risposta e dall'altro. Alcune cose che al momento sembrano in un certo modo c'è ancora un margine perché vengano corrette. Ci sono aspetti un po' ambigui ed alcune potenziali contraddizioni nella normativa che sperabilmente verranno risolte ma risolte ancora non è completamente chiaro come. Quindi questo lo dico per mettere le mani avanti e per anticipare che ci saranno, che sarà prudente insomma la mia esposizione. Ecco, allora, due parole prima come dicevo sull'assetto istituzionale. La professoressa Menesini accennava alla costituzione di questo nuovo centro che è una delle novità fondamentali del DPCM, cioè tutti gli Atenei italiani si devono dotare di un centro che può essere variamente denominato ma la cui missione è di occuparsi della formazione degli insegnanti. Presumibilmente anche quando un domani il progetto attuale venisse soppiantato da un altro, comunque l'idea è che l'università esplicitamente si fa carico del compito di gestire la formazione degli insegnanti con un organismo ben definito. E questo significa un'importante assunzione di responsabilità, mi sembra, un riconoscimento che questo è un compito importante delle università. Questi centri si articoleranno in percorsi formativi e li potete pensare come in qualche modo analoghi in questo contesto ai corsi di laurea, cioè diciamo i corsisti saranno iscritti a uno dei percorsi formativi in cui il centro si articola e che cambiano di anno in anno potenzialmente perché c'è un percorso formativo per una, per ciascuna classe di concorso che il singolo Ateneo decide riattivare. Quindi in particolare per questo primo anno noi abbiamo previsto, come poi vedremo in maggior dettaglio, 14 classi di concorso e questo significa che il centro consterà di 14 percorsi formativi. Naturalmente il centro, diciamo, ha un coordinatore, ha una giunta, ha un consiglio, ci sono vari organi che come potete immaginare consentono al centro di funzionare e di deliberare. È prevista una rappresentanza studentesca in ciascuno dei singoli percorsi ed è presente anche una rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale. Approfitto per dire che oggi non è stato possibile che fosse presente un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale, però noi siamo in contatto costante con loro, è una collaborazione molto proficua e dopo avrò anche occasione di dire quali sono gli aspetti concreti di questa collaborazione. Dicevo prima che per quest'anno l'Ateneo Fiorentino ha deciso di attivare percorsi per 14 classi di concorso. Come sono state scelte queste classi? Uno degli aspetti qualificanti, essenziali di questa riforma è che viene fornito, il Ministero elabora un fabbisogno regionale su base triennale, cioè sulla base di calcoli che hanno a che fare sui posti che si liberano, la demografia, i pensionamenti, sulla base di una serie di fattori, alle università è stato fornito un preciso fabbisogno. Ovviamente questo ha costituito un elemento primario di scelta da parte nostra, cioè da un lato noi abbiamo cercato di capire dove l'Ateneo Fiorentino aveva forze capaci di affrontare questo compito in modo immediato a fronte dei tempi così stretti che avevamo e dall'altro dove era più opportuno far fronte a una richiesta, alla necessità, secondo il Ministero, di abilitare persone che siano in grado di entrare in ruolo nei prossimi anni. Ogni anno, come diceva la professoressa Menesini, è previsto che questo fabbisogno venga aggiornato e che ogni anno ci sia un nuovo accreditamento. Quindi le 14 classi di concorso di quest'anno, diciamo l'anno prossimo, sulla base di vari fattori, un diverso fabbisogno, una diversa politica da parte del governo, diverse valutazioni da parte dell'Ateneo Fiorentino, è perfettamente possibile che noi decidiamo di attivare altre classi. Quindi in qualche modo l'identità del centro si definisce di anno in anno, il percorso non dura più di un anno, quindi come dire ogni anno il centro riparte attivando nuovi corsi. In questo chiaramente è imperfetta l'analogia con i corsi di laurea che hanno una durata più ampia. Questo per quanto riguarda l'idea di come funziona la cosa. Ora qualche dettaglio in più per quanto riguarda per esempio chi può accedere e come. Allora da un lato è importante aver chiaro, e questa è la ragione per cui molte persone di quelle presenti in questa stanza sono qui, che in una qualche forma questi percorsi afferma, la normativa asserisce che sono aperti sia a già laureati che a studenti in corso, purché siano iscritti a una laurea magistrale o a una laurea a ciclo unico nella quale hanno già conseguito almeno 180 crediti, cioè in sostanza allineati con studenti di magistrale. Non vengono al momento forniti molti elementi ulteriori su eventuali criteri aggiuntivi per quanto riguarda gli studenti, però è chiaro che con maggiori o minori ulteriori specificazioni quantomeno alcuni studenti avranno i requisiti per essere iscritti. Quindi l'idea è che questo percorso può essere eseguito sia dall'interno dell'università, in qualche modo in parallelo con gli studi universitari, sia dall'esterno, va bene? E questa è una prima distinzione. Un'altra distinzione riguarda invece le diverse tipologie di percorso. Non c'è un termine chiaro nella normativa, noi le abbiamo chiamati i diversi tagli del percorso, le diverse fattispecie, perché corsisti diversi hanno profili diversi indipendentemente dalla classe di concorso a cui sono interessati e quindi anche vanno incontro ad un percorso di tipo diverso. Il percorso da 60 CFU, come diceva la professoressa Menesini, è la tipologia massimale, diciamo. Chi non ha nessuna particolare, chi non ha nella sua carriera, nel suo trascorso accademico o scolastico, nessuna particolare credenziale che gli consenta di risparmiare una parte del percorso, fa il percorso intero da 60 CFU, che è articolato in un certo modo, va bene? C'è una parte di didattica di area trasversale o comune, quindi insegnamenti di pedagogia, di psicologia, di sociologia, di diritto della scuola. D'altro canto c'è invece una parte, esatto, e questa parte nel nostro caso sarà soltanto online, ora poi tornerò più in dettaglio su questo, sulla differenza tra online e in presenza. E poi invece c'è una parte di didattica disciplinare, quindi didattica della fisica o della chimica o del latino a seconda della classe di concorso e un certo numero di CFU è riservato a questo. Questo è il percorso massimale da 60 CFU. Sì, è naturalmente una componente, certo, è costituita dal tirocinio, cioè è previsto, e questo è uno degli aspetti secondo noi più rilevanti della riforma, anche se non è l'aspetto che cade più direttamente sotto il nostro controllo, ma è un aspetto molto rilevante, una su 60 CFU, diciamo 15 più 5 sono riservati al tirocinio negli istituti superiori, e anche su questo poi dirò qualcosa in più. Ci sono poi dei tagli ridotti, ci sono varie fattispecie che alcuni di voi forse avranno già visto cercando di decifrare gli allegati al decreto, e c'è la possibilità per esempio di dividere il percorso da 60 in due per coloro che si trovassero nella condizione di dover accedere a un concorso attualmente ancora da espletare. Cioè è previsto che come titolo d'accesso al concorso bastino i primi 30 dei 60 CFU e che il resto possa essere frequentato dal candidato vincitore, dai candidati che abbiano vinto il concorso. Un'altra tipologia parziale è costituita da corsisti che abbiano già un'esperienza nel mondo della scuola, apparentemente si tratta di persone che abbiano già insegnato tre anni negli ultimi cinque, che abbiano vinto un concorso, quindi persone che hanno già sia un'esperienza di insegnamento, sia hanno superato un concorso, hanno però bisogno comunque di seguire 30 di questi 60 CFU per poter conseguire, diciamo così, un'abilitazione ex post successiva al concorso. Ed è definito esattamente quale sarà il contenuto di questi 30 CFU per questo tipo di corsisti. E poi un'altra tipologia importante è quella di coloro che hanno conseguito negli anni scorsi i 24 CFU. Immagino anche alcuni di voi. I 24 CFU vengono in qualche modo recuperati all'interno di questo percorso. C'è una limitazione temporale, cioè devono essere stati conseguiti entro una data ben precisa che il decreto specifica, che è il 31 ottobre 2022, ma coloro che hanno conseguito i 24 CFU entro quella data se li vedono riconosciuti nel percorso da 60 e quindi gli rimangono 36 CFU da frequentare tra lezioni e tirocini. Quindi queste, grossomodo, sono i diversi tagli del percorso. Quello che vorrei dire adesso, vorrei dire qualcosa di più sulle modalità di accesso, qualcosa di più su come sarà organizzata la didattica, la questione online in presenza, e forse anche qualche cosa sui riconoscimenti, sul tirocinio e sulla prova finale. Allora, qualcosa in più sulle modalità di accesso a queste varie tipologie che abbiamo definito. Allora, come ho detto prima, questo è proprio un punto su cui noi aspettiamo, attendiamo normativa, quindi bisogna essere molto cauti. Il decreto che abbiamo menzionato prima, pubblicato ad agosto, dice che è possibile che le università si trovino nella condizione di fare ricorso a una qualche selezione in entrata se le domande eccedono la disponibilità. Nel nostro caso, l'Università di Firenze, in seguito a una concertazione con gli altri Atenei Toscani, cercando di esaurire il fabbisogno, ha stabilito quanti corsisti è in grado di prendere per ciascuna classe di concorso. Il totale, che non è molto importante, ma il totale è 749. Quindi l'Università di Firenze è pronta a prendere e ad avere aule per alloggiare 749 corsisti distribuiti sulle 14 classi. Potrebbe darsi che per una classe facesse domanda un numero maggiore di persone. In questo caso il decreto stabilisce che ci sia una selezione in entrata, ma non è ancora stabilito che forma avrà questa selezione. Quindi una cosa importante che noi molto onestamente dobbiamo dire che non sappiamo è come avverrà la selezione. Sarà una selezione attraverso una prova? Sarà una selezione per titoli? Tutto questo sarà chiarito in un decreto di prossima, speriamo, pubblicazione e quindi noi non siamo in grado, purtroppo, non siamo in grado di dirvi ciò che noi stessi non sappiamo. Ma certamente una selezione ci sarà se le domande eccedono la disponibilità. È chiaro che questo ha delle ricadute a cascata sul calendario. Cioè è evidente che finché noi non sappiamo come organizzare l'accesso, non sappiamo neanche, anticipo qui una domanda che potrebbe venirci posta, quando cominceremo, perché evidentemente siamo in attesa di capire quando saremo nelle condizioni di partire. Noi siamo pronti a partire prima possibile, fatti salvi alcuni vitali tempi tecnici, però ci mancano ancora alcune informazioni. È previsto che ci siano delle riserve di posti per alcune categorie, però anche su questo ci aspettiamo che la nuova normativa chiarisca alcuni dubbi. Un punto delicato su cui bisogna essere molto prudenti riguarda i costi. Voi saprete che il decreto stabilisce dei costi massimi. Il decreto dice che il costo massimo è di 2500 euro per quanto riguarda coloro che fanno il percorso intero e lo fanno da esterni e un costo massimo ridotto di 2000 anziché 2500 per coloro che o fanno il percorso intero sì, ma lo fanno da interni, cioè da studenti iscritti, oppure non fanno il percorso intero ma fanno un taglio diverso dai 60 CFU. Quindi il decreto stabilisce questi due massimi, 2500 e 2000. Il massimo naturalmente poi lascia aperte, diciamo qui diventa una decisione dei singoli Atenei. Ora, molto cautamente, noi abbiamo avviato una riflessione su questo, abbiamo discusso a lungo. credo che forse si può dire qualcosa cautamente, cioè che diciamo è emersa come problematica dal punto di vista anche giuridico l'opzione che è stata presa in considerazione di legare questo costo all'ISEE e so che se ne è parlato anche in consiglio d'amministrazione, quindi non è nulla di segreto, però l'idea che noi abbiamo al momento allo studio, credo che questo si possa dire, come Ateneo e di concerto con gli altri Atenei toscani, con i quali cerchiamo di mantenerci allineati su alcuni punti qualificanti, è di pensare ad un costo che sia sì fisso, quindi non graduato in base all'ISEE, ma inferiore al massimo. Cioè l'Università di Firenze ritiene importante fare uno sforzo in un momento in generale delicato, in uno scenario economico in generale delicato per dare quello che a noi sembra un importante segnale di attenzione nei confronti dell'utenza, che è il fatto che ci sia un massimo non significa che noi cerchiamo di far pagare questi percorsi quanto si possono pagare. Deve essere chiaro che per noi questi percorsi sono onerosi, cioè noi dobbiamo assumere personale a contratto, possiamo trovarci a dover affittare dei locali, c'è una quantità di operazioni che hanno dei costi amministrativi, logistici, per cui è necessario che questi costi siano coperti, perché questi percorsi si autofinanziano, non c'è un finanziamento da parte del Governo centrale. Quindi questi percorsi devono essere finanziariamente autonomi e devono essere sostenibili per l'Università. Però è importante, secondo noi, dare un segnale di attenzione di questo tipo. Esatto. Siccome qui si toccano questioni molto delicate che hanno a che fare, diciamo, col diritto di chi ha studiato, di tentare di intraprendere una certa carriera, noi riteniamo che sia un terreno sul quale bisogna muoversi con grande attenzione. Detto questo, una decisione ufficiale ancora non c'è e non c'è per le ragioni che abbiamo detto, cioè perché ancora noi formalmente non possiamo far partire tutto quello che vorremmo far partire. Però penso che sia importante dire esplicitamente in questo contesto che allo stato attuale l'orientamento, diciamo, politico dell'Ateneo è questo. L'organizzazione della didattica. Allora, come accendevamo prima, la didattica sarà parte online, parte in presenza. Può essere online fino al 50% e noi abbiamo preso una decisione netta. Tutta l'area comune sarà online, quindi pedagogia, psicologia, diritto della scuola, eccetera. Tutte le didattiche disciplinari saranno invece in presenza e sarà ovviamente in presenza il tirocinio nelle scuole. Questa, la didattica, avrà un rapporto ore CFU di 6, quindi un CFU sono 6 ore. la frequenza è obbligatoria con un limite del 70%. Una cosa che ancora non è, diciamo, stata pubblicata, ma che noi vi possiamo dire, è che noi abbiamo deciso di tenere tutte le lezioni di pomeriggio, esattamente perché la mattina deve essere tenuta libera per il tirocinio nelle scuole. e le lezioni si terranno in orario 14.30-19.30, quindi 5 ore di orologio a pomeriggio che corrispondono però in termini di ore accademiche a un numero superiore, utilizzando anche il sabato pomeriggio. Cioè non è possibile tenere in piedi questo complesso meccanismo rispettando le scadenze cronologiche che il governo ci dà, in particolare completare il percorso entro il 31 maggio, senza utilizzare anche i sabati pomeriggio. In particolare perché noi dobbiamo trovare aule libere. E questo sì, questo è un esempio dei costi di qui sopra, cioè noi apriremo appositamente dei plessi per poter fare lezioni il sabato pomeriggio. Non c'è ancora un calendario ufficiale e non c'è per l'ottima ragione che non abbiamo ancora il decreto che disciplina l'accesso. Quindi noi non possiamo con certezza sapere da quando si potrà partire. Abbiamo delle nostre ipotesi e abbiamo prenotato delle aule, però potremmo essere non sappiamo ancora se le nostre ipotesi si potranno tradurre in pratica. Un paio di questioni ancora riguardano i riconoscimenti degli esami che avete fatto durante la vostra carriera. I 24 CFU saranno riconoscibili se conseguiti entro una certa data, come abbiamo già detto. Il decreto prevede anche che si possano riconoscere altri crediti fino a un massimo di 12 per il percorso completo. Chi anziché 60 CFU ne fa 30 avrà riconosciuti fino a un massimo di 6 CFU oltre ai 24 per evidenti ragioni. E le modalità del riconoscimento sono in via di definizione. Accennavo poco fa al fatto che un aspetto importante di questa riforma è il tirocinio. Io personalmente la considero forse la cosa più importante se posso dirlo. Il tirocinio si svolgerà nelle scuole e per far questo ci saranno delle convenzioni che vengono strette tra gli istituti superiori e l'Università di Firenze. Cioè le scuole daranno la disponibilità di docenti pronti ad accogliere i nostri corsisti. E quello che sta succedendo in questo momento è che l'ufficio scolastico regionale è in contatto con le scuole che stanno esprimendo la loro disponibilità a stringere convenzioni con l'Università di Firenze. E mi pare che la scadenza perché le scuole diano la loro disponibilità sia una data mi pare a gennaio. Sì, ma credo che stia venendo considerata una proroga. So che l'USR stava valutando la possibilità di posticipare fino a gennaio per aumentare la platea delle scuole pronte a dare la loro disponibilità. Un'altra cosa che forse possiamo dire è che anche perché l'ufficio scolastico regionale la sta dicendo alle scuole è che diciamo questa convenzione non sarà gratuita cioè l'Università di Firenze diciamo sulla base del modello di ciò che viene fatto nei corsi per il sostegno corrisponderà alle scuole una cifra forfettaria per ogni corsista. Ecco il tirocinio naturalmente è impegnativo perché un CFU di tirocinio vale 12 ore non 6 però bisogna considerare che il tirocinio può coprire tutti gli aspetti non soltanto presenza in classe ma anche preparazione di verifiche partecipazione alla programmazione alle riunioni degli organi collegiali cioè tutte le attività della scuola che il corsista o la corsista segua sotto la supervisione del tutor messo a disposizione dall'istituto valgono come tirocinio. Infine per completare questa presentazione la prova finale anche se è molto lontano questo traguardo al momento. Come vi ho detto prima il governo il decreto stabilisce che se non ci sono modifiche nella normativa che attendiamo che i percorsi si completino entro il 31 maggio questo significa io credo indicativamente che nella seconda metà di maggio grosso modo si svolgeranno le prove finali più o meno presumibilmente. È una prova che dovrebbe constare di una parte scritta più una lezione simulata davanti a una davanti a una commissione. Per quei docenti per quei corsisti che sono docenti vincitori di concorso con un'esperienza da docenti precari di tre anni sugli ultimi cinque sarà una prova leggermente diversa la parte scritta avrà una forma particolare però fondamentalmente e questa è l'unica prova cioè non è previsto al momento che ci siano esami questo è bene chiarirlo i corsi vengono seguiti però l'unica verifica che c'è è la verifica finale quindi i corsisti non dovranno affrontare altre verifiche diciamo intermedie allora questo mi sembra un quadro non so quanto chiaro però certamente ragionevolmente completo di quello che noi siamo in grado di dire tra normativa generale e intenzioni di unifi forse a questo punto si può chiedere se avete delle domande e avete diciamo dei quesiti prego forse sarebbe utile se lei se la sentisse di avvicinarsi no no di venire proprio qua perché altrimenti chi ascolta a distanza o andiamo lì con un microfono ecco così perlomeno anche per chi segue da casa la può ok perfetto per quanto riguarda gli studenti borsisti ci sarà qualche convenzione magari con l'università dato che vabbè c'è la conversione borsa di studio corso universitario allora mi pare un po' improbato però lascio rispondere alla professoressa Menezini allora ci sono alcuni tipi di supporti che per esempio l'Arsu l'azienda regionale per il diritto allo studio prevede soprattutto per la specializzazione post laurea quindi ci sono delle borse più che che in qualche modo sono destinate a dottorandi a master nell'ambito per esempio anche del progetto giovane sì forse questo è un aspetto che devo farmi prendere in carico e magari parlarne con l'azienda regionale per il diritto allo studio perché in effetti credo che sia insomma in prospettiva una direzione importante anche di lavoro e di investimento per molti giovani quindi dovrebbero includerla all'interno delle borse di studio post laurea vi facciamo sapere su questo grazie di aver segnalato il punto io volevo sapere se per gli studenti lavoratori c'era la possibilità di avere dei permessi sul lavoro o una riduzione delle ore e concludo la domanda perché è doppia diversamente se il lavoro è l'insegnamento nella scuola privata difficile allora nessuno di questi casi è contemplato nella normativa e prima di dire qualunque cosa perché è ovvio che da un certo punto di vista ciò che non è contemplato nella normativa in certi casi può stare al singolo ateneo di deciderlo però se è così proprio perché la normativa non è completa questo è uno di quei casi in cui uno deve essere cauto perché potrebbe anche darsi che una domanda come la sua che non ha una risposta al momento trovasse una risposta in seguito la mia impressione è che il caso degli studenti lavoratori non sia dei corsisti lavoratori non sia contemplato il fatto che debba esserci un tirocinio naturalmente allora un ipotetico corsista lavoratore o corsista lavoratrice dovrebbe certamente trovare il modo di fare tirocinio e dovrebbe poi non ho l'impressione e qui sarei un po' sorpreso se la normativa si modificasse cioè viene precisato che la frequenza è obbligatoria con un margine fino al 30% di assenze non posso escludere che le integrazioni che devono arrivare alla normativa modifichino questo aspetto però diciamo a oggi sembrerebbe che altre possibilità non ce ne fossero e che quindi non si desse il caso che chi si trova in una condizione particolare avesse diritto a una maggior percentuale di assenze il caso di chi insegna nella scuola è un caso persone la cui attività lavorativa è esattamente l'insegnamento allora ho l'impressione che in questo caso probabilmente bisognerebbe cercare di capire non tanto che tipo di sconti sulla frequenza possono essere fatti bisognerebbe semmai cercare di capire per quanto riguarda il tirocinio come stanno le cose cioè una questione che già ci eravamo posti è appunto persone che sono docenti precari in che modo si può far valere la loro esperienza come come tirocinio in corso temo che questo sia uno degli aspetti sui quali al momento non siamo in grado di pronunciarci e sarebbe molto imprudente assumere una posizione che potrebbe poi rivelarsi incompatibile con la normativa quindi l'unica cosa che posso dire è che è giusto porre il problema e che faremo in modo di averlo ben presente in maniera tale che se non è deciso dalla normativa in un modo o nell'altro lo decidiamo noi diciamo prendendoci la responsabilità di assumere una posizione di un qualche tipo in modo che non resti una zona grigia in cui quindi grazie io volevo sapere una cosa per esempio lì quella classe A20 fisica per entrare cioè per avere i requisiti di accesso insomma ci vuole io penso una laurea in matematica o in fisica giusto? io mi sono laureato l'altro giorno in giurisprudenza quindi io posso fare posso insegnare diritto economia e cosa posso fare e ho visto che comunque lì non ci sono quindi la classe quindi potrebbe attivarsi il prossimo anno giusto? ok però aspetti oltre che risponderle annuendo le do una risposta un pochino più articolata allora parto dal fondo sì naturalmente non ricordo i numeri in questo momento ma quello potrebbe esattamente essere un caso di classe per la quale apparentemente la Toscana era destinata a non avere un fabbisogno nei prossimi tre anni secondo i calcoli odierni ma che noi potremmo benissimo decidere di attivare l'anno prossimo o se cambia il fabbisogno o se cambiano altre valutazioni esatto esatto quindi come come mi pareva di ricordare erano classi per le quali apparentemente le stime del ministero suggeriscono che non ci saranno posti una cosa però volevo volevo due cose allora se lei si chiede a che cosa mi dà accesso la mia laurea allora qui lei può avere un'informazione più precisa attraverso il corso di studi che dovrebbe fornire questo tipo di indicazioni e la normativa comunque chiarisce ogni laurea a che cosa dà accesso e viceversa a ogni classe di concorso per l'insegnamento per ogni classe di concorso quali sono i requisiti di accesso non si tratta solo di avere una certa laurea ma a volte anche più specificamente di aver conseguito un certo numero di CFU in certi ben precisi settori scientifico disciplinari l'ultima precisazione che vorrei fare sulla sua domanda è questa lei ha detto presumo che per insegnare fisica ci voglia una laurea in matematica e fisica naturalmente sì ci vuole una laurea per insegnare fisica e mi pare che non so se altre lauree oltre a matematica e fisica sono compatibili ma è importante aver chiaro distinguere due piani da un lato ci sono i requisiti per rivestire un posto di ruolo nella scuola per essere abilitati all'insegnamento e rivestire un posto e con questo poi insieme al superamento di un concorso rivestire un posto da insegnante di ruolo della scuola qui però stiamo parlando di requisiti di accesso per i nostri percorsi verso l'abilitazione e abbiamo detto che questi percorsi sono accessibili anche agli studenti di Unifi che per definizione non sono laureati quindi ci vuole la laurea per diventare un insegnante di fisica ma non ci vuole la laurea per cominciare il percorso che porta a diventare un insegnante di fisica naturalmente noi non sappiamo esattamente in che misura verranno ammessi interni ed esterni a questi percorsi è perfettamente possibile che la normativa ministeriale chiarisca che ci sono delle quote delle proporzioni che una certa percentuale dovrà essere esterna all'università e una certa percentuale interna ciò non toglie che degli interni potranno esserci e questi la laurea ancora non ce la possono avere evidentemente dovranno acquisirla prima di diventare prima di essere abilitati quindi è bene chiarire che questo è l'elenco delle classi che noi attiviamo alle quali possono fare domanda anche persone non ancora in possesso di tutti i requisiti per insegnare sì grazie una domanda composita per quanto riguarda il tema che si era sollevato sui dottorandi dottori di ricerca riguarda il riconoscimento che si era letto in giro di alcuni crediti per coloro che sono al terzo anno o indirittura di perfezionarsi il riconoscimento di alcuni crediti magari conseguiti per colmare la classe di concorso dopo la laurea che ho visto che sono abbastanza simili con parte del percorso da 60 CFU e se questa cosa l'ultima che ho accennato di cui non sapevo niente di possibili borse riguarda ad esempio faccio il mio caso io sono laureato in triennale magistrale qui ma sono attualmente dottorando per un'altra università in cotutela con l'università britannica varrà per coloro che hanno studiato ma ora sono dottorando in un'altra parte o solo per coloro che sono PhD candidate dell'università di Firenze un po' queste questioni su questa categoria grazie no per bacco il fatto l'università nella quale uno sta troverei un po' sorprendente che fosse rilevante in che università allora il decreto dice che nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi scritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento ora questa è una delle norme che noi auspichiamo vengano chiarite già l'espressione i consigli di corso non è il massimo della chiarezza già i collegi di dottorato potranno in qualche modo pronunciarsi o qui si fa riferimento ai consigli dei nostri percorsi formativi io penso che sicuramente i nostri percorsi formativi avranno l'ultima parola sulla riconoscibilità solo che qui dice eventuale non viene quantificato quindi certamente una delle cose che noi faremo tutto diciamo uno dei punti sui quali l'università quasi certamente dovrà prendere delle decisioni che potrebbero non essere completamente omogenee sul piano nazionale è una politica precisa sul piano dei riconoscimenti la nostra intenzione è arrivare all'avvio dei corsi avendo forti anche dell'esperienza del PF24 e poi di quella molto più breve dei 5 CFU dell'anno scorso di arrivare risolvendo in anticipo la maggior parte delle ambiguità e quindi sapendo esattamente come definire ogni singola situazione nei limiti del possibile quindi la questione dei dottorati se non viene risolta nella normativa sarà dipenderà da noi valutarla non vedo in che modo la collocazione geografica di un'università potrebbe essere rilevante quello che conta è il tipo di esperienze che il dottorando o la dottoranda porta nella sua domanda che saranno a quel punto valutate forse in modo discrezionale qualora anche sfuggissero a una tipologia standard diciamo così quindi l'intenzione è di arrivare ad una risposta netta e a una risposta che tenga conto in modo costruttivo delle competenze che sono state acquisite però diciamo in alcuni di questi casi si dovrà valutare caso per caso inevitabilmente buon pomeriggio a tutti grazie per essere venuti tanto siete già entrati nel vivo dell'argomento che è un argomento abbastanza complicato come avrete potuto vedere io mi auguro insomma che noi si possa in qualche maniera cercare di trovare soluzioni migliori per poter come dire adempiere a questa modifica ce la stiamo mettendo tutta ringrazio il professore Ademodo la professoressa Ersilia Menesini e quindi sappiate che eventualmente c'è la nostra disponibilità a dare il supporto per quello che riusciamo anche noi a capire perché diciamo ci cambiano le carte in tavola benissimo e quindi insomma noi cerchiamo sicuramente di darvi un supporto però oggettivamente ci sono dei punti che in qualche maniera un pochettino ancora sfuggono il credo che a breve ci dovrebbe arrivare anche dall'accreditamento cioè sostanzialmente mi sembra che sono stati attivati si hanno fatto due osservazioni ma che stanno erano due osservazioni sostanzialmente formali che dovrebbero essere in qualche maniera sanate quindi da questo punto di vista dovremmo avere tutto no quelle sono state già diciamo ci sono stati fatti due rilievi molto formali noi abbiamo risposto se non c'è nient'altro io sarei fiducioso però ho controllato oggi pomeriggio e ancora non c'era niente insomma anch'io avevo visto solamente quelle osservazioni quelle osservazioni quindi come dire penso che siamo abbastanza pronti per partire sì 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 poi cresceremo vediamo anche che cosa se ci sono delle novità ovviamente sarete prontamente informati e però insomma al momento questa situazione grazie veramente per essere venuti e a presto non so se saluto anche c'è anche in streaming allora saluto saluto ovviamente anche tutti coloro i quali sono collegati e insomma tutte le informazioni penso possono essere importanti se dovessero appunto essercene delle altre o comunque integrazione faremo degli altri incontri di questo tipo grazie o non so se c'erano altre domande prego prego sì sì tenete presente che è molto utile questo diciamo può essere utile per voi quando noi riusciamo a rispondere ma è anche molto utile come promemoria per noi come avete visto quindi è un momento importante di scambio esatto piano piano via via che siamo in grado di rispondere a domande a cui non abbiamo dato risposta qui o a cui comunque che vediamo come rilevanti cominceremo a sviluppare una sezione di domande frequenti sul sito prego avevo un dubbio sulla modalità d'accesso perché io faccio la magistrale in storia dell'arte e però la mia classe di concorso non è stata attivata però la mia laurea mi dà accesso anche alle classi di concorso a 12 e a 22 però ovviamente avendo un determinato numero di crediti ben specifici ora io dovrei colmare 24 insomma crediti specifici appunto per accedere a queste classi di concorso il mio dubbio è si potrebbe accedere ugualmente al percorso formativo prima di aver colmato questi diciamo questi ICFU mancanti oppure prima si deve colmare ICFU e poi potersi iscrivere e poi un altro mio dubbio è ovviamente seguendo il percorso la 60 magari per la 12 o per la 22 si avrebbe l'abilitazione solo per quelle date classi di concorso e quindi si dovrebbe poi riseguire eventualmente una volta attivato per la 54 per storia dell'arte sono due ottime domande direi che la seconda è più facile della prima nel senso che sì cioè l'impressione tutto quello che abbiamo capito finora è che ognuno di questi percorsi abilita in una classe di concorso ben precisa soltanto in quella un'altra cosa che ci sembra di aver capito che non so se venga mai esplicitata ma che sembra evidente è che è esclusiva la partecipazione cioè ci si iscrive a una e a una sola di queste classi di concorso di questi percorsi formativi quindi il percorso formativo è agganciato a una singola classe e abilita in quella e non in altre la prima domanda che lei poneva è una domanda delicata la risposta vera è che questo è uno è esattamente uno dei punti su cui noi attendiamo di capire se la normativa darà delucidazioni cioè lo studente o la studentessa che ha non ha ancora tutti i requisiti che consentono di conseguire l'abilitazione e di insegnare requisiti disciplinari può iscriversi al percorso allora io credo che una risposta onesta che che si basa su una valutazione dei dati che abbiamo sia questa il decreto dice che si possono iscrivere laureati e laureandi cioè non laureandi insomma studenti e studentesse in corso allora certamente queste persone mancano di un requisito per insegnare cioè la laurea esplicitamente non vengono fissati altri vincoli salvo uno che ho ricordato prima cioè che per le lauree a ciclo unico bisogna aver conseguito almeno 180 CFU altro al momento la normativa non dice non possiamo escludere però che vengano indicati dei requisiti oppure non possiamo escludere che diventi un titolo per graduare diciamo l'accesso avere o non avere già conseguito quei CFU sono scenari possibili diciamo al momento le dovrei dire che la normativa non include esplicitamente un obbligo di aver già conseguito quei crediti al tempo stesso lo dico con cautela perché la normativa potrebbe cambiare e dico con enfasi un'altra cosa che escludo categoricamente che si possa conseguire l'abilitazione senza aver colmato questa e qualunque altra lacuna cioè ovviamente uno non si può abilitare finché non ha i crediti la laurea eccetera io avevo un'altra domanda anche questa un po' particolare ma mi è venuta in mente quando hanno parlato del dottorato e avevo letto qualcosa non so se per il concorso o in questa sede se una seconda laurea magistrale cioè pregressa serve cioè può far riconoscere dei CFU in quanto cioè non in quanto esatto cioè non in quanto laurea però no siccome avevo letto sono gli esami il punto se nella sua carriera lei ha lei adesso è un insegnante poniamo di storia dell'arte però ha anche una laurea in chimica con tutti gli esami di chimica uno chiaramente può in quel caso far valere quella o in un caso più seriamente diciamo la carriera è unica quindi naturalmente uno può attingere a tutto ciò che ha conseguito nel corso della sua carriera non è la laurea in quanto tale è il punto il punto è sono i CFU che uno ha ottenuto lungo il percorso ok cioè forse sono io che non ho colto il punto no forse sono io che non ho colto alcune cose che avete detto prima sul riconoscimento di alcuni crediti per per chi fa il percorso dei 60 sì parlavate di riconoscimento di alcuni crediti è previsto che dei crediti allora non ho capito da cosa vengono riconosciuti come chiedevano ma questo non è legato al fatto che uno abbia una laurea solo o due cioè il punto è che agli esami supponiamo sì esatto cioè supponiamo che io mi iscriva a questo percorso va bene forte di una laurea in poniamo lettere e durante il mio percorso io ho fatto un esame di didattica del latino e un esame di didattica della storia antica li ho fatti come esami perché erano nel mio piano di studio posso chiedere e sotto determinate condizioni anche ottenere che mi vengano riconosciuti in maniera tale che se vengono valutati congruenti con il percorso il nostro Ateneo dica benissimo tu non hai bisogno dai 60 noi defalchiamo 12 CFU che tu hai già ottenuto altrimenti e che noi giudichiamo equipollenti a quelli che ti faremmo ottenere noi ma questo non è rilevante se l'abbia ottenuto in una laurea o in un'altra conta che siano nel suo percorso perfetto grazie però è chiaro che se uno ha due lauree è probabile che magari abbia qualche CFU da farsi riconoscere certo più lauree uno ha più esami questo va da te scusatemi che se per esempio la studentessa di prima che mi sembra era appunto di scienze politiche forse storia dell'arte sì che se non fosse laureata in effetti acquisire i crediti che uno deve acquisire per poter concorrere per quella classe abilitante lo può fare per esempio all'interno anche degli esami a scelta libera o degli esami aggiuntivi che sono un'opportunità che noi abbiamo tra l'altro gratuita per cui ecco questa è una cosa che dovremmo mettere in piedi Francesco accanto a un servizio che vi orienta un po' su le classi che abilitano magari alle classi di concorso alle classi abilitanti l'idea di poter prevedere nel caso per esempio di alcune classi abilitanti i CFU che sono necessari oltre alla laurea perché come avete capito ci sono dei percorsi diretti e poi ci sono dei percorsi invece che a volte presuppongono almeno alcuni crediti io faccio l'esempio per esempio di filosofia e scienze umane a 18 possono accedere laureati in scienze dell'educazione in psicologia in filosofia e forse anche in scienze della comunicazione però dovrebbero avere una serie di CFU nei settori che in qualche modo sono pilastri di questa classe di formazione e allora è chiaro che questo tipo di informazione va data ai nostri studenti in modo che soprattutto se uno è iscritto per esempio a psicologia debba dare o possa dare i CFU di ambito pedagogico e di ambito filosofico necessari anche sociologi come sembra per poter accedere alla classe a 18 filosofia e scienze umane Sì, salve intanto ringrazio entrambi per la chiarezza cristallina nonostante l'incertezza ministeriale e insomma diciamo io ecco sono docente di ruolo non odiatemi ma sono una testimonianza diretta e si può fare il concorso vincerlo e sopravvivere e no mi occupo all'interno del mio istituto dell'accoglienza dei tirocinanti che stanno facendo il TFA di sostegno e anche dei tirocinanti della vostra laurea magistrale che stanno facendo da noi i crediti per il tirocinio con molto entusiasmo è un piacere accoglierli anche se è faticoso e appunto abbiamo compilato proprio in questi giorni con il dirigente il modulo per accogliere i futuri per cui ecco benvenga che vengano riaperti i termini perché alcuni è arrivato un po' con dei tempi ristretti a ridosso del ponte dell'Immacolata e molti colleghi magari erano un po' incerti titubanti non avevano ben capito quindi se riaprissero i termini sono convinta che altri aderirebbero e ben volentieri mi faccio faccio un po' per causa di forza maggiore quindi sono a titolo personale non a titolo istituzionale ma i miei colleghi mi hanno utilizzato un po' se posso permettermi il termine come catalizzatore di domande come se fossi un'esperta ma non lo sono però mi sono letta il decreto e come dire mi sento di confermare cioè la preoccupazione maggiore da parte di chi da noi alla supplenza per cui magari è precario e vorrebbe affrontare il concorso è la preoccupazione del tempo cioè come fare tutto dovendo anche insegnare allora da questo punto di vista è arrivata una nota dell'ufficio scolastico regionale che è pubblicata sul loro sito a noi scuole è arrivata come circolare per cui chi si iscriverà a questi percorsi tipo non mi ricordo se uno si iscrive a tempo 10 giorni 15 giorni comunque è pubblicata sul sito per richiedere di nuovo le ore quelle per il diritto allo studio che saranno assegnate in maniera residuale cioè loro ovviamente le hanno già assegnate in base alle scadenze quelle rimaste nel budget non so come definirlo potranno essere riassegnate quindi questo è un piccolo sollievo il fatto che voi proponiate i corsi in presenza nel pomeriggio e anche di sabato pomeriggio è faticoso ma è vincente nel senso che questo perlomeno è vero che uno al pomeriggio può avere un consiglio di classe può avere una riunione può chiedere un permesso può giustificarsi e questo però risolve in gran parte la grande apprezzione anche per chi sta facendo da noi i CFU per il sostegno era proprio l'orario allora col sostegno fra virgolette è stato più facile perché magari un ragazzo ha assegnate quelle ore si devono spalmare su quelle materie magari in matematica cioè a quell'ora cioè a quell'altra si riesce un po' a distribuirla compatibilmente con un tutor che ha un orario sfalsato per cui poi si riescano a coprire le ore sulla materia diventa più complessa quindi da questo punto di vista mi capisce se voi riusciste ad avere delle risposte questo rassicurerebbe molto diciamo fra virgolette giovani e poi ecco c'è un'altra categoria di docenti già di ruolo che magari hanno preso il ruolo molto giovani anche neolaureati e che magari hanno insegnato non so faccio degli esempi concreti la 12 o la 26 per tanti anni e che per una scelta professionale di arricchimento magari vorrebbero segnarsi ad un percorso per gente laureata in lettere classiche vorrebbe passare sulla 11 quindi che sono interessati ai 30 CFU e che mi chiedevano conferma se questi nel caso sarebbe tutto online il percorso è sempre prevista anche la presenza e se la prova finale in caso sarebbe soltanto la lezione simulata ecco questa è la domanda più ricorrente che il dubbio più ricorrente che serpeggia a parte appunto confermo questa preoccupazione per il tempo di riuscire a fare tutto in così poco tempo perché a fine maggio ecco si può slittare all'inizio dell'anno scolastico successivo quindi vi ringrazio sono domande un po' diciamo di sintesi di tante persone e magari però spero possono essere utili a tanti grazie allora il punto che lei ha sollevato per ultimo è un punto molto problematico la normativa se ne fa accenno nel decreto ma è presente già nel decreto legislativo 59 del 2017 introduce quest'idea di un percorso di 30 cfu finalizzato specificamente destinato specificamente ai docenti già abilitati che desiderino ottenere una seconda abilitazione il punto è che la norma stabilisce che rende le cose molto complicate perché questi 30 cfu dovrebbero essere 30 cfu totalmente di didattica disciplinare va bene volendo anche online ora qual è il punto nei 60 cfu di didattica disciplinare ce ne sono 16 di cfu e sono in presenza allora qual è il problema da un lato c'è il problema che con tempi ristrettissimi noi avremmo dovuto allestire un percorso in cui erano previsti altri 14 cfu ma in realtà sarebbe stato molto problematico rendere fruibili gli stessi 16 cfu destinati a coloro che fanno i 60 crediti e aggiungerne poi 14 per arrivare a 30 perché qual è il punto che il percorso destinato alle seconde abilitazioni non ha un fabbisogno e non ha dei numeri prevedibili allora noi se noi sovrapponiamo questi percorsi per 16 cfu noi rischiamo di trovarci in una situazione in cui l'aula che abbiamo prenotato non è più agibile per ragioni di sicurezza perché arrivano 14 corsisti che desiderano un'altra abilitazione e il cui numero noi non possiamo determinare in anticipo allora in questa situazione Firenze ha fatto una scelta condivisa che io sappia da diversi atenei sia in Toscana parlavo ieri con la mia collega di Bologna momentaneamente noi diciamo rimandiamo una decisione su questi percorsi sia perché cerchiamo di capire se la normativa che uscirà a breve darà lumi o modificherà qualcosa sia perché nel poco tempo a disposizione la prima cosa che abbiamo fatto è stata organizzare i percorsi per la prima abilitazione naturalmente sappiamo che rimane una questione da affrontare più avanti abbiamo considerato varie possibilità nessuna per ora come dire è stata scelta in modo definitivo esiste anche la possibilità se si tratta di didattica online abbiamo anche contemplato l'ipotesi di fare delle sinergie con altri atenei però qui ancora non c'è niente che sia stato deciso ci tengo a chiarire che è un'idea molto complessa da realizzare tenete conto che 30 CFU sono un semestre e che da ottobre ai primi di novembre noi organizzassimo la didattica di un semestre credo di poter dire sommessamente che non è realistico quindi è una possibilità allo studio sappiamo che andrà affrontata in qualche forma e ci riserviamo di capire come via via che procediamo quindi abbiamo ben presente il problema ma al momento non c'è un progetto concreto né a Firenze né in altre città perlomeno varie che conosco sulla prima domanda invece quella come sostenere questo tipo di impegno per chi studia o chi lavora perché in effetti noi abbiamo due tipologie di studenti dei corsi abilitanti che sono o studenti che quindi devono conciliarlo magari con gli impegni degli esami gli impegni della propria carriera accademica oppure precari che insegnano nella scuola o che lavorano allora noi cercheremo di fare in modo che l'orario diciamo sia il più possibile definito abbiamo previsto il sabato appositamente su due giorni in modo da come dire far sì che poi se uno insomma si organizza riesce a conciliarlo quindi il sabato che è un sacrificio però probabilmente rende per molti studenti potenzialmente più fruibile il percorso e poi un altro giorno che cercheremo di definire magari anche per tempo affinché le scuole poi possano tenerne conto e anche lo stesso docente se è precario ad esempio chiedendo il giorno libero in quella in quella data o in quel giorno in cui appunto poi frequenta il corso ecco questo è un tipo di accorgimento che utilizziamo anche per il sostegno appunto in modo da rendere compatibile questo grosso lavoro insomma che diciamo un insegnante in formazione deve fare rispetto magari a un impegno o di studio o di lavoro che già è attivo per chi va via ci tengo a dirlo insomma noi appena che saranno accreditati i corsi abilitanti e appena che avremo le condizioni per poterlo fare quindi un'approvazione ministeriale e le indicazioni ministeriali pubblicheremo i bandi quindi tenetevi come si dice collegati tuned perché pubblicheremo i bandi e potrebbe anche essere che i bandi se il ministero ci mette molta fretta invece di rimanere aperti per un mese come generalmente si fa potrebbero avere anche un tempo un pochino più breve 20 giorni 15 giorni quindi mi raccomando fate in modo insomma se siete interessati di poter intercettare questo treno che insomma purtroppo passa velocemente è passato per noi e passerà anche per voi velocemente però noi cerchiamo di creare i presupposti affinché tutti quelli veramente motivati interessati possano cogliere questa opportunità da subito una volta fatti i bandi poi cercheremo di organizzare so che appunto il professore Ademollo il professor Cardini insomma vari colleghi ci stanno lavorando gli orari e i percorsi proprio per consentire a chi poi si iscriverà di poter avere il quadro degli impegni e delle richieste che il percorso prevede quindi insomma ci stiamo adoperando per rendere il più possibile fruibile e insomma anche un percorso di qualità le proposte che andremo a definire e che andrete voi poi a insomma esperire nel vostro percorso formativo se vi iscrivete appunto ai corsi abilitanti per l'insegnamento sarà un'operazione un po' in corsa in questo momento però insomma ce la mettiamo tutta come sempre e cercheremo poi di migliorarci insomma grazie anche all'aiuto ovviamente di tanti colleghi che per esempio ci si stanno dedicando in particolare ringrazio qui i colleghi del centro multidisciplinare per la formazione degli insegnanti perché appunto sono quelli che fino a ora hanno diciamo lavorato per poter definire questa progettazione e che poi entreranno in campo a tutti gli effetti insomma da gennaio ecco quindi prepariamoci tutti insomma volevo dirlo prima che magari qualcuno andasse via però se ci sono ancora domande noi siamo qui eh sì grazie mi chiedevo se e in che termini un'esperienza pregressa di insegnamento però università privata quindi un paio d'anni possa incidere sulla scelta diciamo sulla determinazione del tipo del taglio del percorso che poi uno deve portare avanti al di là del riconoscimento crediti per lauree o il dottorato purtroppo se la normativa non viene modificata sulla base delle questo è un caso in cui come in altri non possiamo escludere che ci siano cambiamenti ma a oggi la normativa dà una risposta e cioè apparentemente purtroppo no non è rilevante sembra non essere rilevante l'insegnamento universitario né privato né pubblico se uno è stato docente a contratto all'università non sembra rilevante e quindi neanche no neanche nell'università ai fini dell'ammissione probabilmente al percorso no però ai fini del concorso mi sa di sì e poi perché può essere un titolo il genere del dottorato altre attività professionali non sono titoli che vengono valorizzati tantissimo però sono titoli che fanno punteggio credo esatto cioè non è escluso che determini un punteggio all'ammissione ma avevo capito che la domanda riguardava più l'accedere a un taglio a una fattispecie anziché no le fattispecie sono determinate non sulla base di questo il tipo di docenza precaria che è pregressa che è rilevante è nella scuola e di tre anni negli ultimi cinque e non in qualunque classe di concorso ma in quella per la quale si chiede alla quale si chiede l'accesso altri tipi di docenza possono determinare forse punteggio in sede di ammissione ma non determinano il tipo di la tipologia di studente la tipologia di studente esatto purtroppo mi avete già più o meno risposto perché l'asse a 19 non c'è io ho una laurea in filosofia e quindi non sarei neanche potuto venire ad ascoltarvi però conseguendo la triennale di psicologia già fatta sto facendo un master per conseguire i 60 CFU nelle sociologie che non avevo i CFU di filosofia ce l'ho con storia e filosofia ho già fatto docente in una paritaria ma fanno un mondo a sé sia per scienze umane che per storia e filosofia che ho i CFU la domanda era già stata fatta posso accedere perché il master sicuramente non lo finirò alla uscita dell'iscrizione al corso dei 60 CFU per scienze un master o una laurea magistrale scusi lui c'ha una laurea magistrale in filosofia aveva detto una triennale ho una magistrale in vecchio ordinamento in filosofia a 19 e non c'è però scopo c'è la 18 che ormai filosofia prima era con lettere ora è più con psicologia la triennale di scienze tecniche e psicologiche conseguendo poi questo master di 60 CFU di sociologia e la magistrale in filosofia mi dà accesso alla formazione di 60 CFU a 18 oppure no penso la laurea magistrale no allora certo che le dare però è filosofia è a 19 allora sì certo ma bisogna vedere se è un titolo esatto cioè bisogna vedere i crediti che ha bisogna vedere la normativa di accesso alla classe alla classe a 18 no il problema è che lui c'ha praticamente perché l'a 18 presuppone un certo numero di CFU per filosofia per scienze dell'educazione sociologia e psicologia almeno tre credo mi mancano solo le sociologie le sto conseguendo ora le mancano solo le sociologie il problema è che poiché ora sta facendo il master non le ha ancora acquisiti capito questi CFU ad aprire e quindi di fatto lui dovrebbe tipo fare domanda con la pendenza di acquisire i CFU non so quanti sono 12 il master di 60 però qualche esame l'ho già conseguito ma il master è un pacchetto completo questo potrebbe essere un caso per il quale diciamo bisogna vedere come viene determinato bisogna vedere se uno spazio per un caso di questo tipo viene determinato dalla nuova normativa ma non è detto che sia consentito però posso aspettare l'uscita del bando questo però è un punto da mettere a fuoco perché anche quella di storia dell'arte aveva lo stesso problema che anche lei aveva la laurea che gli permetteva l'accesso ma lei mancavano alcuni crediti specifici della disciplina perché il problema è che ci sono diciamo alcune classi abilitanti a cui si accede con più tipi di lauree con più lauree però con alcuni requisiti minimi di CFEU nei settori diciamo nucleari centrali insomma della classe abilitante questo un po' Buonasera io volevo chiedere se il terocinio nelle scuole verrà retribuito e una seconda domanda da parte dei miei colleghi che mi chiedono se è necessario conseguire la laurea magistrale entro la fine del percorso quindi entro il 31 maggio o se uno può appunto finire il percorso e poi conseguire la laurea anche in un secondo momento insomma anche dopo Allora prima domanda temo proprio di no che il tirocinio venga retribuito no anche perché non è il tirocinio di un docente no quindi no temo che la risposta temo che la risposta sia no per quanto riguarda l'altra domanda è diciamo si ritorna un po' alla questione che è stata posta prima come dicevo prima è possibile che qui escano delle vengano vengano rese note delle precisazioni di cui al momento non disponiamo io credo prudentemente che si possa dire che sarebbe molto problematico che venisse conseguita un'abilitazione senza che in una situazione in cui non è posseduto uno dei requisiti per l'insegnamento la mia impressione è che non si possa diciamo il punto che è in questione è come si possa entrare nel percorso ma non vedo come se ne possa uscire abilitati se non si possiedono tutti i requisiti per l'insegnamento laurea inclusa quindi troverei ragionevole aspettarmi che la laurea dovesse essere conseguita prima e che non possa essere conferita l'abilitazione a chi non ha tutti i requisiti per poter insegnare dunque laurea e CFU la questione su cui si può avere un'esitazione riguarda l'accesso ma certamente non si può uscire direi penserei da questo percorso senza avere tutti i requisiti in regola quindi anche la laurea cioè è condizione necessaria per l'abilitazione anche se non è sufficiente e quindi non è possibile diciamo quello che non sappiamo ancora dire è se si potrà sostenere l'esame ma non ottenere il titolo o se non si potrà ancora sostenere l'esame ma certamente non è possibile completare il percorso con successo conseguendo il titolo dell'abilitazione se non si hanno tutti i requisiti mi pare che sarebbe una situazione insostenibile diversamente quindi per esempio uno studente magistrale ovviamente del primo anno non si potrà iscrivere perché è impossibile che consegua la laurea il primo anno di magistrale ma anche per gli studenti per esempio del secondo o del terzo anno cioè per i laureandi cioè se uno non ha ancora un'idea di quanto ci metterà a laurearsi allora non può cioè non ha senso che si iscriva insomma al percorso in questo anno ora poi se insomma uno pensa di laurearsi nei tempi normali come dovrebbe insomma tutti noi professori lo spieghiamo insomma anche perché è importante che ci siano dei percorsi insomma di successo non percorsi troppo lunghi se uno pensa di laurearsi più o meno entro i due anni magari forse può essere opportuno al secondo anno perché 60 CFEU è un anno e quindi come dire uno riesce a ottimizzare sui tempi conseguendo la laurea e portando avanti il percorso che poi gli permette di avere anche la laurea abilitante quindi in questo senso potrebbe essere strategico tenga conto però che quando lei ha detto secondo o terzo anno lei sembrava pensare alla laurea triennale ma la laurea triennale qui è esclusa ah lei pensava a un anno fuori corso di magistrale va bene non lo so se non ci sono altre domande magari possiamo anche intanto per ora chiudere questo primo momento informativo quello che appunto ci tenevamo insomma a precisare è che poi verrà attivato un servizio di segreteria una serie di facca anche sul sito insomma tutta una serie di informazioni che dovrebbero in qualche modo per noi aiutarci a chiarire meglio sia le modalità di ammissione sia poi via via insomma una volta che uno ha ammesso la gestione e il percorso formativo però soprattutto le modalità di ammissione e per gli studenti ancora iscritti diciamo da noi quindi studenti laureandi anche per esempio la possibilità di aver chiaro a che cosa può preparare il proprio titolo a che cosa ammette la propria laurea e se ci sono come è emerso per alcune classi abilitanti la necessità di conseguire dei CFU aggiuntivi in alcuni ambiti disciplinari perché sono la condizione per poter essere appunto ammessi poi al percorso abilitante e anche ovviamente all'insegnamento in quella disciplina sì prego lei tenga lei tenga conto le dico soltanto questo visto che siamo alla fine come ha detto lei così per salutarci il DPCM che è uscito il 4 di agosto doveva essere licenziato dal governo Draghi è uscito un anno dopo allora la nostra speranza saremo contenti se in questo caso il ritardo è minore ma questo precedente sconsiglia di fare qualunque avventata previsione no l'unica cosa secondo me che può essere rilevante in questo contesto è il fatto che tutta questa partita è agganciata al PNRR come sapete e alla necessità che il nostro paese ha di mettere il ruolo molti docenti entro il 2026 questo fa sì che appunto un concorso sia già partito e ci dovrebbe essere un secondo concorso credo a giugno credo sì un secondo bando a giugno maggio-giugno quindi noi dovremmo stare nel mezzo cioè io credo per consentire a chi ha le condizioni ed è giovane di poter conseguire 30 CFEU e quindi poi eventualmente accedere come parzialmente abilitato al concorso eventualmente per creare le condizioni per chi ha 24 riconoscimenti insomma di poter completare il percorso essere già abilitato insomma per fare sì che come dire i concorsi se ci saranno siano aperti a una larga popolazione che ha ovviamente i requisiti per poterlo fare per cui io mi immagino spero che magari arrivino insomma gli accreditamenti a breve e soprattutto il ministero ci dia le indicazioni sui bandi sulle modalità d'ammissione tutti quei dettagli che appunto ora ci mancano e che sono fondamentali però per partire noi abbiamo già una mezza macchina organizzativa sui nostri corsi però ovviamente dobbiamo far partire questa parte diciamo più amministrativa e di ammissione insomma dei candidati sì sì però anche per esempio i bandi poi usciranno sulla gazzetta no sulla gazzetta no sul nostro albo ufficiale e però ovviamente le metteremo sui social quindi insomma ecco seguiteci in modo da poter essere informati faremo una news ecco sul sito questo sì va bene grazie a tutte e a tutti di essere venuti della vostra partecipazione speriamo che il 2024 sia l'anno per voi l'anno per diciamo la qualificazione e poi eventualmente il ruolo di docente auguri arrivederci grazie a tutti grazie a tutti